Ma, oddio, ha riscattato, recita una poesia, io lo faccio, perché non mi sembra... Chi sono io per andare contro i voleri della chat? Mattina mi illumino d'immenso. Tra l'altro, dato l'orario, direi che è perfetta. Ed è la poesia che ho portato agli esami di scuola media, pensate un po'. Grazie a tutti.